Come internet ha cambiato la tua vita? Ben positivo, perché c'è un ritrovo, qualsiasi cosa su internet, con i social network, con qualsiasi altra applicazione che si può trovare, sia con i telefoni che con il computer di casa. Quante ore passi al giorno? Più o meno? Un paio d'ore indicativamente, tendo conto del cellulare che è sempre connesso, un paio d'ore al giorno. E utilizzi principalmente i social o lo utilizzi come ricerca? Sia per lavoro che anche i social per vedere le notizie, più che altro, scrivo pochissimo sui social ma curioso. Ok, ultimissima domanda, se dovessi pensare alla tua vita senza internet, pensi che migliorerebbe o peggiorerebbe? Beh, peggiorerebbe secondo me, visto l'abitudine con cui si affronta la vita con internet, anche se alla fine ci si adegua, perché senza internet i nostri genitori hanno sempre vissuto e quindi siamo solo che siamo la quarta generazione, quindi internet è quasi impossibile non averlo. Però penso che sia impossibile vivere, anche perché io avendo 45 anni ho vissuto la mia infanzia e la mia gioventù senza internet.